Come detto a inizio puntata, ampio spazio dedicato al Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Vediamo i servizi. Il Consorzio Agrario di Treviso e Belluno non poteva mancare al consueto appuntamento con Agrimont Mostra Nazionale dell'Agricoltura di Montagna che nel primo weekend di apertura ha registrato quasi 10.000 presenze. Tantissime novità, invitiamo tutti i nostri clienti, i nostri imprenditori agricoli di questo territorio e anche tutti gli altri consumatori a venire a visitare il nostro stand, ricchissimo di interessanti opportunità non solo quindi come in termini tecnologici, in termini di presenza di materiali, di prodotti, di servizi ma anche tante interessanti iniziative commerciali di finanziamento a favore dei nostri agricoltori in particolar modo per gli agricoltori del territorio montano. In Mostra è meglio della tecnologia motorizzata e poi attrezzi e servizi offerti dal Consorzio Agrario. Le tecnologie che si possono applicare all'agricoltura cambiano tutti gli anni e tutti gli anni ci sono delle novità. Il Consorzio Agrario si propone non solo nell'aspetto di offrire mezzi tecnici ma anche mezzi finanziari. Va detto che sta andando molto bene alcune campagne con la collaborazione di qualche istituto bancario per andare incontro proprio in questo momento di innalzamento dei tassi di interesse anche per acquisto di macchine e addirittura anche di acquisto di mezzi tecnici. Questo va detto è un importante istituto bancario e credito agricol con il quale stiamo collaborando e darà dei buoni risultati credo questa collaborazione. Agrimont continuerà anche dal 22 al 24 aprile e non mancheranno le offerte. Per i prossimi mesi soprattutto ora che abbiamo la stagione alle porte insomma siamo a marzo abbiamo in promozione sicuramente il modello T590S di New Holland che alle mie spalle ha un prezzo promo per la versione base a partire da 39,9 più IVA macchina in pronta consegna ed inoltre abbiamo tutta una serie di attrezzature per la fienagione quindi dai fasciatori, dalle falciatrici, falciacondizionatrici, giro spandi volta fieno e giro andanatori che sono disponibili in pronta consegna presso le nostre filiali o presso la nostra sede di Castagnolo di Paese a prezzi veramente interessanti. Quindi la stagione della fienagione è alle porte, il Consorzio Agrario è presente e ha numerose iniziative in essere per stare vicino agli agricoltori e per promuovere l'attività agricola e l'attività zootecnica presso la zona di Belluno.